siamo qui per presentare l'abbeveratoio river systems e abbeveratoio da 15 litri con manico e tappo articolo 140b allora partiamo in dettaglio con l'abbeveratoio innanzitutto l'abbeveratoio è formato da alcuni componenti che adesso andiamo a vedere meglio abbiamo il sifone che è prodotto per soffiaggio vediamo come è composto l'abbeveratoio quindi il sifone ha l'apertura di caricamento dell'acqua e il foro dove l'acqua fuoriesce per riempire l'abbeveratoio in più abbiamo delle alette che servono per agganciare il sifone con il piatto oltre a questo pezzo abbiamo il tappo fatto in materiale plastico gommoso caociu quindi il tappo che serve appunto per chiudere l'abbeveratoio nella fase di riempimento e il tappo con manico da cui prende e deriva il nome dell'abbeveratoio con lo ring di tenuta superiore quindi lo ring va infilata nell'apposita scanalatura all'interno del tappo e sarà questa che poi farà la tenuta e renderà funzionale l'abbeveratoio se questo o ring per qualsiasi motivo non è nella corretta posizione o non fa tenuta con il bordo superiore dell'abbeveratoio una volta che noi andremo a togliere il tappo inferiore non ci sarà più vuoto all'interno che garantirà il livello costante ma l'aria entrando dalla parte superiore andrà a svuotarmi l'abbeveratoio in pochissimo tempo andando a traccimare addirittura dall'abbeveratoio quindi è molto importante che una volta che io ho riempito l'abbeveratoio logicamente prima di tutto devo mettere il tappo inferiore una volta che ho riempito l'abbeveratoio nella fase di avvitamento io sia sicuro che il tappo sia ben chiuso ermeticamente per evitare l'ingresso dell'aria una volta riempito quindi andrò a controllare che il tappo inferiore coincida con l'apposita apertura per far uscire l'acqua e io poi aggancio e l'abbeveratoio è funzionante per comodità abbiamo riempito già una cupola con 15 litri d'acqua quindi è molto pesante pesa 15 chili perché avendo 15 litri d'acqua quindi vediamo che il tappo è resistente per tenerla metto in posizione la beveratoio lo vado ad agganciare quindi vediamo che adesso la beveratoio forma un unico corpo con il piatto andiamo a togliere il tappo vedremo l'acqua uscire e arrivare al livello prestabilito adesso piano piano l'acqua uscirà l'acqua uscirà e arriverà all'altezza prestabilita garantendo quindi che gli animali abbiano acqua sufficiente fino all'esaurimento dei 15 litri diciamo che la robustezza dell'abbeveratoio è garantita dagli materiali di prima qualità e di prima scelta che la River Systems utilizza nella realizzazione dei suoi prodotti grazie